ma bentornati a tutti e benvenuti in questo nuovo video ragazzi questo oggi contenuto sponsorizzato come vedete dal logo in basso a destra ma prima di iniziare devo ricordarvi che è gradito il vostro supporto quindi se vi piace il video se vi piacerà il video se vi piacciono i miei contenuti vi invito a seguirmi qui a seguirmi mettere un bel like al video a iscrivervi qui su youtube alla tana dei nerd perché no su twitch sul canale la tana dei nerd a seguirmi sul mio sito ufficiale www.latanadeinerd.com se non ricordo male com è un po che non ci vado quindi penso sia com comunque o aiuto comunque sembra a parte di scherzi per s.com e scusate e a visitare il nostro shop ufficiale quest'oggi siamo davanti a void void è un videogioco sviluppato da nikita sozidar che è uno studio di sviluppo situato in romania e con editore tini build che abbiamo già visto con alle spalle hello neighbor e tini e tini kin che è un altro gioco molto carino ma andiamo a vedere subito cosa ci aspetta in questo void please choose your preferred graphics style scegli il tuo stile di grafico preferito possiamo scegliere già c'è qualcosa non va ok facciamo modern ma vedo che ragazzi datemi un secondo perché devo sistemare un pochino il video io vediamo se ci riusciamo beh niente non mi fa cliccare ok option c'è un bel un bel 4k magari ecco il busink eh me lo metti il busink fratelli per spavore madonna c'è abbiamo il mouse come vedete che è totalmente fuori desinche dal dal video vediamo se facendo un attimo così risolviamo facciamo borderster for skin perfetto abbiamo risolto allora bilanciato qui siamo bene prendiamo sul controlli ovviamente non ci fanno scegliere a quanto pare la lingua no interfaccia non c'era non ci va l'interfaccia audio e niente interfaccia grazie allora quindi difficoltà media grafica va bene così vediamo un po' come come se la cava il gioco io diciamo che non ci sono molte moltissime opzioni tuttavia andiamo a giocare così questo è un play test demo quindi è una demo che vedremo per pochi minuti qui opzioni wishlist feedback e qui andiamo un play facciamo il game e vediamo un po' cosa ci aspetta approccio spear ok beh beh ok posso abbassare un attimino la sensibilità del mouse già sta a venire da vomita già stanno a venire da vomita a me perché no quando fate questi giochi però ragazzi dovete stare molto attenti al frame rate perché se il frame rate è ballerino fate soltanto venire vomita la gente fate tante cose colgo l'occasione per dirvi che ho visto apparire un commento di net ink sotto il mio video di un suo gioco ora venivo criticato perché non facevo vedere bene il gioco perché lo giocavo male allora giusto per essere precisi non sono retribuito quindi se i vostri giochi non li tratto a dovere il problema non è il mio ok cioè se i vostri giochi non riesco a trattarli a dovere e comunque sono molto critico forse la causa del gioco e non sono io quindi non sono il dibuito che cazzo è successo ma non si sa perfetto adesso sono voi cioè qui se mi toccano gli batte tutto dicevo non essendo il dibuito ragazzuoli dovete capire che io proprio il vostro gioco ma se non ottenete dei consensi e sono particolarmente critico vuol dire c'è qualche problema sul gioco non che dovete poi lasciare commenti che io non l'ho giocato bene io non sono adatto a giocare a quel tipo di gioco che io ho giocato male scusate che io giocano male o che io non non ho fatto del gioco il gioco io lo faccio vedere poi nel caso specifico era un gioco e simile jrpg non ricordo il titolo dove praticamente c'erano i topi che avevano tipo 700 da hp e il commento era è però devi usare spell devi usare abilità per batti i topi si ma i topi i topi li hai fatti sempre con 700 hp amico mio i topi c'erano sempre il doppio di energia dei personaggi quindi il problema è di bilanciamento non è mio che hanno usato le abilità quindi questo è un monitor che faccio a tutti coloro mi affideranno gli avi di sviluppo per i loro rispettivi giochi da qui a divenire e ricordatevi che non vengono attribuito voi non mi attribuite il sito non mi attribuisce quindi se ve lode rosicate perché va aspettare che tutti debbano parlare per forza bene del vostro gioco allora fate una cosa non datemi proprio le chiavi che meglio perché poi io vengo portato a pensare due modi togliere il video e rifarlo peggio così almeno almeno meno meno gentile perché io assicuro che cerco di essere il massimo gentile per videogiochi voi mi sentite sempre di nel 99 per cento dei casi che un gioco vale di essere preso in considerazione ma se io dico questo se io dico questo e poi spuntano fuori i commenti è una visione per un'altra visione questo no uso pure di la seconda abilità io quando provo i giochi vi dico sempre che vale la pena dargli una possibilità qualsiasi gioco sia vale la pena dargli la possibilità perché può darsi che un gioco che graficamente è carente che magari graficamente non è proprio il top probabilmente potrebbe stupirvi per quanto riguarda la rama il gameplay tante altre cose da mamma io non lo devo ricominciare no a shift esci dal dal posto c'è anche uscita magari sta roba qua credo allora allora quando la spada a ok perfetto devo far così madonna comunque a partire scherzi ragazzi veramente eh cazzo che mese che mese bombola che palle da liscio anche questo no raga io lo dico francamente francamente non è proprio il massimo del dell'ottimizzazione o del frame rate però io vi consiglio ugualmente di dargli una possibilità perché magari a qualcuno questo stile di gameplay questo stile artistico può piacere quindi io vi dico sempre date una possibilità ai titoli che vedete che porto salvo alcuni casi in cui vi dirò io personalmente fa cagare a spruzzo per il resto tutti i videogiochi meritano una possibilità il problema fondamentalmente è quando poi magari alcuni eh no sono cascato forse doveva la spada che dici forse andiamo a spada che dici dico che era meglio a farlo così oh eh ma fai al testo un cazzo questo me goccia raga ma non c'è un modo di paraste c'è un blocco eh troppo semplice poi minchia fortuna che non moro eh ma sto coso è troppo forte però eh e noi lo battiamo uguale e abbiamo troppato una spada ottimo ottimo e la posso anche vivaggiare con gli inventati o i delimota o ecco qua vado qua e vado qua e vado qua e vado qua che non me la fa mettere non me la fa mettere perché voi leggere non in play test quindi che vuol dire not in play test perché non posso giustare ma io che problema abbiamo e niente ok non posso vediamo se il gioco vi spiega qualcosa in più magari questo era solo il tutorial ok vedete ragazzi abbiamo un effetto pop up di caricamento delle texture e questo non va bene però nel complesso se sorvoliamo su sta cosa la grafica non sembra proprio niente niente male ma è venuta al primo livello è un open world location che puoi esplorare a tuo piacimento beh devo dire a prima vista uno non non riuscirebbe eh mortacci vostri però eh io non posso vado a me vabbè allora te lo facciamo esplorare a piacere però ti facciamo un culo come un secchio come inizi come funziona lo puoi esplorare a piacere il problema è che che sfondo se ci provi è bella sta cosa dove stiamo adesso dove mi avete mandato all'inizio credo ma scusa queste buglie vabbè però ora no queste cose buglie magari due text dove ce le mettevamo intorno era meglio magari se due text dove lì dentro ce le mettevamo schifo non faceva però ragazzi playtest ricordatevi playtest quindi non è la versione definitiva del gioco benvenuto tu a malice questo è il tuo hub dove vuoi clean sbloccare il loot bloccato quindi posso anche prendere questa spazio da andare a finire ok perdiamo il loot quando quando muoiamo per caso per sapere decidere quale per un livello vuoi esplorare è soltanto uno è correntemente disponibile nel playtest ovviamente è questo carino effetto a specchio quello si capito ok riproviamoci io femminette però è un po' femminette lascia molto a desiderare e comunque molto caotico si capisce il cazzo per farla breve non ci si capisce un cazzo allora facciamo così è niente veramente facciamo una cosa proviamo a abbassare la qualità grafica andiamo con il normale full hd e vediamo se cambia qualcosa vediamo vediamo se cambia frame rate oddio se vede molto peggio però vabbè sembra più fluido trallungato ora o è colpa mia però io lo vedo messo malino infatti si è dispostato un'altra volta ecco perché colpa mia ok adesso è giusto non avevo selezionato la grafica un le proporzioni giuste ok vediamo se va un po' meglio adesso mi sembra molto più fluido ci ha fatto spavolare in un altro punto del del eh no il fermetere dei nemici è sempre un po' allora il fermetere dei nemici mi sembra sempre un po' ballerino in realtà ragazzi mi sembra anche leggermente troppo complicato non so se c'è un tasto per fare una parata vediamo un attimino se c'è un tasto per parare però madonna per come playtest non ci aiuta allora attacca jump no non abbiamo modo di pararci e questa è una cosa un attimino che controllerei dare al giocatore almeno la la possibilità di parare un colpo abbiamo una spada almeno la posizione di parata la potremmo la potremmo sfruttare vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa perché così tutto bello tutto figo ma guardate il fermetere dei nemici non mi sembra proprio qualcosa di ottimale ma comunque è troppo complicato ragazzi no vabbè allora io ve lo consiglio nì perché avete visto un framerate che non è propriamente un framerate stabile nel movimento dei nemici il gioco non vi offre possibilità deparata perché non vi offre al momento una possibilità di parare un colpo e più o meno questo playtest non riuscite a superare anche i primi cinque nemici poi si è fatto apposta per evitare che le persone possano magari sbloccato guardate che fermetere di merda questo no non è un gioco che vi consiglio a sto punto veramente io non so quanto possa costare ma è esageratamente difficile e poi a un certo punto magari ci uccide pure questo ha anticipato il movimento aveva già sparato da quella parte ragazzi non lo so non lo so cioè se vengono risolti queste piccole problematiche la vedo dura magari a qualcuno di voi va a piacere c'è sarà l'hut c'è sarà possibilità di potenziare proprio un raggiamento ma lo vedo già eccessivamente a difficoltà media troppo la difficoltà troppo elevata voglio essere sincero e comunque per merita a distanza dei nemici non vi fa capire molto detto questo vi saluto io vi invito valorosamente vi ricordo che se volete supportarmi lasciate un bel like condividere il video iscrivetevi al canale seguitemi anche su twitch sul sito ufficiale www.latanadeinerd.com e perché no magari fate un salto anche sullo shop ufficiale detto questo vi saluto ciao ragazzi ciao a tutti e buon gioco grazie a tutti